Tentano i gambe in movimento, tentano continuo, 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 continuo. Gabbia dimaricate. Musica. Tre qualità del cuore, non tra le due. Un, sì. Compio il cinocchio in diagonale, continuo in corponale. Un, sì. Facciamo la prima parte, a destra, passi l'incrocio al fondo, passi l'incrocio al fondo, tra i movimenti, sì. Ripacciamo, passi l'incrocio al fondo, passi l'incrocio al fondo, goghe di bravo. Certo, qua. Quanto tirate le tra i movimenti? Stretti addominati. Perdo il gusto. Ancora. Seconda parte. Doppio tracci in diagonale. Togli il cinocchio con il pugno. Lato. Sediti il tracci in diagonale. Due. Ci vuole. Pugno, vai. I puntaggi che facciamo stando basso. Le gambe spincono quando la cambiamo. Ciò che io lo stavo taglio. E. Ha. Passo il tracci in diagonale. Hai. Ciò che io lo stavo. E. 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 Ciò che io lo stavo faccio. E. 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 Ciò che io lo stavo faccio. E. Una volta qua. Ricordate l'altra parte. Sì o no? Due tassi. Sì. Sì. Due ginobbia. Stavate. Due tassi. Noi. Giro di noi. Uncora lì. Adesso tutta questa robina qua. La mettiamo assieme. Sì. Ciò che io lo stavo faccio. Noi. Passi. Noi. Passi. Gordo. Taci. Gordo. Gordo. Sì. Provate da sproviare. E poi. 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 Ha, ha. Table cirICi dosi. E poi. E poi. Es Noi. Semplici das, nel studio. Ch 51. Grazie a tutti